Buonasera a tutti, come diceva Gian Paolo dal 2004 che è nata la CMS, la CMS si occupa di meccanica nel settore della meccanica, costruiamo macchine automatiche per l'impacchettamento e sì, questa idea è nata perché mio padre è sempre stato nel settore e insieme a me ho riuscito a portare avanti questo progetto, progetto che ci ha dato molte soddisfazioni e nel 2011 mio fratello Maurizio, ottimo tecnico e validissimo imprenditore, è venuto a darci manforte, siamo cresciuti, quindi da due siamo diventati 15, abbiamo 11 persone che si occupano della produzione, una detta al magazzino e una figura amministrativa. Abbiamo aumentato i servizi e creando delle sinergie con altre aziende e questo è un po' quello che noi svolgiamo insomma nel settore della meccanica. Quello che voglio dire è che il nostro è un settore principalmente maschile, il mio essere donna imprenditrice può essere visto in una maniera un po' anomala, però diciamo che il problema non si pone al momento in cui comunque si riescono a creare delle relazioni, quindi delle collaborazioni dove possono nascere delle lacune con figure che possono andare a coprire queste mancanze e che permettono di avere al cliente quello che il cliente ha bisogno rendendone influente il fatto che la figura sia femminile o maschile, raggiungendo semplicemente l'obiettivo. I benefici, sì, i benefici, il fatto comunque sia di essere sicuramente molto fiera, mi ha insegnato moltissimo questa esperienza da un punto di vista caratteriale, anche se non molto a parlare in pubblico perché questa è una cosa che proprio mi riesce molto difficile e le soddisfazioni sono innumerevoli, a partire dalla nostra squadra che è composta da ragazzi bravissimi su cui noi puntiamo molto, anche proprio per quello che riguarda le loro esigenze, in modo che si sentano parte di una squadra, di una famiglia e che possano rendere comunque sempre al meglio.